Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere altri tre test presi appunto dai test ingresso di matematica all'università. Come sempre non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e lasciare un mi piace qui sotto se vi fa piacere. Il primo test che vi propongo è abbastanza semplice, chiede di determinare la radice cubica di 64. Quanto vale la radice cubica di 64? Ora la radice cubica di 64 è quell'unico numero positivo, o meglio non negativo in generale, che elevato alla terza può dare 64, quindi elevato al cubo può dare 64. Questo numero è ovviamente 4, la risposta corretta è quindi la B. Il secondo quesito invece ci sposta alle potenze dei numeri reali. Dice si ha un numero reale. Quanti valori reali di y soddisfano la relazione y al quadrato uguale ad a? Vedete le cinque alternative? La risposta corretta è la C, perché tutto dipende dal segno del numero a in questione. Se a ad esempio è un numero di segno positivo, allora esistono due numeri che elevati al quadrato ci danno quel numero. Uno è pari alla radice di a, l'altro all'opposto della radice di a. Se a uguale a 0, solo 0 alla seconda da 0 appunto. Se invece a un numero di segno negativo non esistono numeri reali che elevati alla seconda ci danno un numero di segno negativo. Quindi ripeto, l'opzione corretta è la C. Il terzo quesito che vi propongo ha a che fare con le potenze di 10, numeri scritti in notazione scientifica. Chiede di determinare qual è la somma tra 2,1 per 10 alla quarta e 3,5 per 10 alla terza. Alcuni dei risultati proposti sono delle sorte di distrattori. Pensiamo alla B, alla D e alla E. Nella B, se vedete, la B vi è un risultato in funzione di una potenza di 10 con esponente 7, 7 ottenuto addizionando 4 e 3. Così nell'opzione D. Peggio direi nella E, ma tra peggio e peggio non so cosa scegliere, perché abbiamo un risultato espresso in funzione di 10 alla dodicesima. 10 alla dodicesima presumo moltiplicando 4 e 3 di due esponenti. Come andare a risolvere questo quesito? Abbiamo una somma, numero quindi coefficiente per potenza di 10 alla quarta più numero potenza di 10 alla 3, porterei questi due addendi in funzione della stessa potenza. Ho scelto di esprimere il primo dei due, quindi 2,1 per 10 alla quarta, come numero per potenza di 10 alla terza. Questo, che vi ho appena detto, è equivalente a 21 per 10 alla terza. 21 per 10 alla terza più 3,5 per 10 alla terza ci dà 24,5 per 10 alla terza. Questo risultato è presente nelle alternative. L'alternativa corretta è quindi la A. Detto questo, direi che posso concludere questo video. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.